dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini dire biribo 00 capitolo 13 te come stai si dai tutto bene che fai no non è ancora arrivato ma che ti ha detto beh tranquillo neanche io gli credo senti kree devo dirti una cosa è sono incinta no a lui gli ho detto che è suo ovviamente ma non penso perché facciamo l'amore una volta ogni morto di papa dai ci sentiamo dopo a dopo ciccino purtroppo senti solo quello che diceva mia moglie non sentivo quello che disse l'altro mi ha spezzato il cuore mi sento morire dentro è come se una lama mi stesse perforando l'anima andai in cucina e presi una bottiglia di vodka iniziai a bere come se non ci fosse un domani amore ma che stai facendo senti non parlarmi così ok e non rompermi il cazzo grazie arrivederci andai in camera di sara per vedere come stava piccola sei sveglia sì papi che c'è digli a giulia che gli devo parlare ora nel mio ufficio va bene mi incamminai verso l'ufficio la vidi lì seduta nella schivania che mi guardava ciao matteo che vuoi senti siccome qui nessuno mi crede ho capito vuoi sfogarti con me vorrei che tu mi facessi un favore dipende devi solo spiare mia moglie esce sempre per quest'ora e mi dice sempre che deve recuperare delle ore del lavoro ti prego seguila e poi raccontami tutto va bene dai comunque anche io ti devo delle cose ah wow e cosa pensa bene a quello che ti dicevo io lo so che sono cattiva ma il mio capo se ne avvierà molto solo che più di farti capire le cose non riesco vado a spiarla a dopo a dopo giulia scomparve nel nulla mi ha fatto un grande favore mi sembrava simpatica oggi vabbè andai da mia figlia per parlare un po con lei ma quando entrai benay 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 benay